ciao a tutti e benvenuti schiati class motocycle con ci sono l'ufficiale triumph per provincia di reggio miglia modena e parma come tutti gli anni abbiamo un grande appuntamento il salone ecma di milano andiamo a conoscere e a vedere le nuove novità del 2024 iniziamo subito con la nuova tiger 900 finalmente triumph ha sviluppato un nuovo progetto legato alle tiger 900 sia le versioni gt pro che le versioni rally pro la moto passa da un 97 cavalli a un 108 cavalli un grande passo avanti di elettronica e componentistica accessori dedicati eccoci finalmente davanti alla grande novità triumph le nuove speed 400 e scrambler 400 un nuovo settore per la casa inglese dove possiamo vedere delle monocilindriche da 40 cavalli è una grande accessoristica dedicata queste grandi novità si dividono su due modelli speed 400 più stradale e scrambler 400 più off-front un'altra novità è l'aggiornamento fatto sulla scrambler 1002 qui la vediamo con le nuove livree e nuova componentistica dedicata 9 scrambler 1002 in due versioni i se e i si una più stradale e una più dedicata all'off-road naturalmente presenti in fiera tutta la gamma triumph grande novità riguardante le model classic con le nuove colorazioni stile e la trastor fine edition grazie a tutti 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 abbiamo scoperto le nuove novità del 2024 triumph grandi novità anche schiatti class motorcycle abbiamo aperto la nuova sede triumph a parma in via sellonardo 84 dove abbiamo tutti i nuovi servizi dalla vendita post vendita e assistenza pertanto vi aspettiamo vi aspettiamo per provare il magico mondo inglese a presto grazie a tutti 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 grazie a tutti